Il tronista Tiziano Tiziano, per te c'è Claudiana Claudiana, cosa hai portato per Tiziano? Ciao Tiziano No, ti ho portato questo perché è un televisore per guardare quanto sei bello No, qui Claudiana, lo so che Sì, ma Maria oggi non c'è quindi lì vicino è noto Tiziano, per te poi c'è Valterina Ciao Valterina Cosa hai portato tu a Tiziano? Ciao 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 No, 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 no